E questo è il secondo carro di Montevago. Montevago è il paese più bello del mondo perché fa divertire la gente. Allora, dopo il lavoro ci vuole il divertimento. A meno moremo contenti. Guardate che bello. Montevago è il paese più bello del mondo e sono gente bellissima. Solo che i politici sono solo mangiati. Perché? Perché la gente va tutto a fuori. Qua ormai la cittadinanza è diventata piccola perché non c'è più gente. Però Montevago è il paese più bello del mondo. Più bello perché fa divertire. Bello.